Non ce l'ha fatta il 32enne vittima la notte di giovedì scorso di un tragico incidente sullo scorrimento Marsala Birgi. Livio Angileri è morto questa mattina dopo ore di ansia e disperazione per la famiglia e gli amici. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale Livio viaggiava un Audi A4 è uscita fuoristrada cappottandosi fino a ridursi in un ammasso di lamiere. Le condizioni di Livio, scaraventato violentamente fuori dall'abitacolo dell'autovettura, da subito erano apparse disperate, tanto che giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala, i medicini avevano deciso il trasferimento presso l'ospedale civico di Palermo in elissoccorso. Il 32enne marsalese lascia nello sconforto la moglie Loredana, sposata appena lo scorso 5 maggio, la sua famiglia e gli amici. Grazie. Grazie.